Ciao a tutti, sono Simone Dallavalle, da diversi anni lavoro come educatore cinofilo. La mia attività mi vede impegnato principalmente presso canili e associazioni animaliste in qualità di rieducatore comportamentale. Il mio obiettivo è quello di migliorare l'indice di adottabilità di tutti gli ospiti presenti. Oltre a questo mi occupo di formazione per tutte le persone che vorrebbero fare il mio lavoro, collaboro con diverse riviste di settore quotidiani e da diversi anni sono un volto televisivo in qualità di conduttore della trasmissione rivelazione Missione Cuccioli. Naturalmente oltre a tutto questo offro il mio aiuto a tutte le persone che potrebbero aver bisogno di un educatore cinofilo per migliorare la propria convivenza assieme al loro amico a quattro zampe. Sono certo che tutti voi avrete sentito dire che un cane educato è un cane felice. Io invece sono convinto che un cane felice sia un cane educato. Un cane felice è un animale riflessivo, calmo, collaborativo, insomma un allievo perfetto per insegnargli qualunque cosa e un amico perfetto con cui condividere ogni momento della propria vita. Qualunque sia il risultato che volete ottenere con il vostro cane non è possibile prescindere da una relazione equilibrata e da una gestione che vi permetta ogni giorno di soddisfare i suoi bisogni primari. In quest'ottica l'educazione del vostro cane non sarà un punto d'arrivo ma l'inizio di un percorso in cui scoprirete l'importanza della comunicazione, dei momenti di gioco, del controllo dell'iniziativa e del rinforzo positivo. Se volete un cane per amico quindi dovrete imparare a muovervi assieme seguendo lo stesso ritmo e non solo a pretendere che sia lui a seguirvi nella danza. Tutto quello che avete visto fino adesso è solo un assaggio del meraviglioso percorso che potrete svolgere assieme al vostro amico a quattro zampe. Nel mio nuovo libro, Un cane per amico, troverete questo e molto altro ancora. Basandomi sulla mia esperienza personale e professionale ho scritto il manuale che ho sempre sognato di trovare in libreria, un libro capace di offrire non solo nozioni di cinofilia e tecniche addestrative ma anche tanti, tantissimi suggerimenti utili per la vita di tutti i giorni. Un cane per amico quindi è dedicato a tutti voi che amate il vostro cane e che volete trasformare ogni momento trascorso assieme in un'esperienza fantastica, proprio come avviene tra veri amici. Ci vediamo in libreria!